Quando siamo a Pondeggio? Questo è quattro, dove dovete accettare, un po' qui? bravo dai bravo dai bravo dai bravo dai bravo come si vede la diretta? ma ah no 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 ma a casa non guardate qualcuno? non possiamo fare un'altra definizione HD perchè abbiamo la pennetta no quattro c'è è perchè ci vorrebbe la DSN si si vede bene mi si vede ancora me mi si vede ancora me grazie grazie oh mi raccomando l'articolo 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 vediamo lì oh danni danni sennò l'ho corregolito bravo 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 ok vai 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 giugio vai d'ultimo se arriviamo l'ultimo duro non allungare duro vai di là sono due parti due parti no tre a due tre a due per noi bella bravo dai bravo era bella era bella però io ho fatto una scherzata prima ho sbagliato ma meritava bravo dai bravo bravo dai peccato peccato vai basta vai ragione riconcentrati bravo 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 bella balla dai dai peccato dai peccato bravo 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 Grazie. 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 Dai Fran. Brava. Dai eh. Brava. Brava. Brava.